Vieni qua che ti riscaldo i piedi, dai. No, dai Marco, stasera non mi va. Io mi voglio separare perché c'ho un altro. No, da 25 anni che stiamo insieme. Se tornassi indietro, ho il cavolo che mi metterei con Giulia. Cambiare tutta la mia vita. Cosa sapete sulla parabola? Sinceramente, non cazzo. Vi boccio, giuro che quest'anno vi boccio. Siamo tornati a scuola, siamo tornati indietro da 25 anni, ma com'è possibile? Ha detto te che vuoi tornare indietro? Tu l'hai portato pure a me. Ciao mamma, madonna quant'eri bella, quant'eri giovane. Ero? Finalmente. Papà, c'è ancora tutti i capelli. Ho sempre avuto i capelli che stanno avendo. Questo si fa le canne. Ecco perché sono tornato nel passato. Giulia, lo invito da ballare, poi ci siamo baciati, poi ci siamo sposati. E mi ha rovinato la vita. Se non mi metto con lei, non sarò più infelice. Seguiamolo, eccolo lì. Mi raccomando, hai datti da fare, va in burla. Lascia perdere, per favore. Dai, sei tanto carina, ma sei troppo piccola per me. Essi dal papagno che se notte compio! Ma che cosi? Dai, esci! Sai come te sembra Don Cruz su Top Gun? Guarda che pilla! Amore di mamma. A scuola si approfittano di te! Ma che fai, fumi? Per cubano, un whisky, da notte, con papà e mamma dentro casa, cammina. Senza paghetta per un mese, sai? Ma paghetta, io guadagno 5.000 euro netti al mese. Mi ha pure per cui? Volevo scusarmi per quella grezza che ho fatto ieri. Io che ho fatto, ti ho baciato. Ciao! Oh, sto parlando con te, mezza sega! Muccio, ho 42 anni, gli do 12 e fune a sto greddino. Ma che sei sciuto? L'ho fatto male, l'ho fatto! Fatemi tornare nel 2015. E che c'ho? Un attimo, basta dirlo, no? Venga ma l'ambulanza. Ma un buon normale in questa casa. Berba sotto, non abbaglia, costano poco, non rompono i coglioni. Alicia Vikander affiancherà Tom Hanks nel suo prossimo film, The Circle, un adattamento dell'omonimo romanzo di Dave Eggers, in libreria già da due anni. Il titolo del film è anche il nome della più potente internet company del mondo, al centro della trama, che gestisce la rete e le insegne della trasparenza. Diciamo che è una tappa importante nella carriera della 27enne attrice svedese. Dopo la presenza nei recenti Il settimo figlio ed Ex Machina, la Vikander ha ben 5 film in arrivo, tra i quali The Man From UNCLE, in uscita quest'estate di Guy Ritchie, The Danish Girl con il premio Oscar Eddie Redmayne, e Tulip Fever con Cara De La Vigne e Christoph Waltz. E brava, e bravi anche voi che ci avete seguiti. E ancora di più se già vi siete iscritti al canale. Grazie, al prossimo video, ciao a tutti. Grazie.